Continua la distribuzione gratuita di mascherine ai cittadini fanesi, dopo quelle riservate agli over 65 e alle famiglie con immunodepressi che da lunedì scorso sono distribuite al Codma dalla protezione civile o consegnate a casa direttamente dai volontari, da questa mattina l'amministrazione comunale ha attivato un nuovo canale di distribuzione utilizzando le tabaccherie dislocate nella città. Dunque le stanno distribuendo a tutti coloro che ne facciano richieste, ovviamente con l'obbligo di prendere una alla volta perché altrimenti c'è un effetto accapparamento che non serve a nessuno. L'abbiamo già iniziato a distribuire i tevaccai, alcuni non l'hanno ricevuta, adesso in queste ore le stanno ricevendo e quindi si stanno adoperando insieme a noi con pazienza e ci sono messi a disposizione affinché si riesca a superare questa fase emergenziale. Questa mattina sono già in distribuzione attraverso i tevaccai circa 4.000 mascherine. Il servizio è stato possibile grazie alla disponibilità della Federazione Italiana Tabaccai e al consenso degli esercenti che già nella prima giornata di consegna gratuita di una prima parte di mascherine doppio telo di cotone si sono trovati a fronteggiare l'ingente richiesta da parte dei cittadini. La richiesta è stata alta, l'aspettativa era alta e le abbiamo terminate nell'arco della mattinata, comunque adesso sembra che ce le diano di nuovo in distribuzione. Abbiamo avuto le disposizioni di darle una a persona, possibilmente agli over 65. Sinceramente hanno messo un avviso troppo precoce sul sito sia del comune che anche su internet e purtroppo la gente era già preparata per ritirarle ma la distribuzione non era stata ancora fatta. Sono arrivate mezz'ora fa, sono 100 mascherine e non sono neanche tante, sicuramente per la richiesta. Diverse invece le segnalazioni dei cittadini arrivate nella nostra redazione, i quali lamentano la mancata efficienza delle stesse. Come questa mascherina fotografata da un nostro reporter che evidenzia l'impossibilità di indossarla. Sulla questione emersa dalle segnalazioni è intervenuto Fanesi, annunciando inoltre che a partire da domani saranno distribuite gratuitamente anche le mascherine chirurgiche fornite dalla regione Marche. Noi cerchiamo di dare un servizio, questo servizio noi pensiamo di farlo nel miglior modo possibile in una situazione di emergenza. Dopodiché sono mascherine come questa che sono monouso, fanno lo scopo che devono fare, proteggono quindi le persone. Esteticamente sono state discusse da tanto tempo però sono quelle che ci dà la protezione civile che noi distribuiamo gratuitamente.